Musica Buonasera, ben chiatats con gnovis. A continuare a arrivare in queste regioni dispatriate ucraini, in entrate in Italia i passi di Fernetti e Cocau, dopo i 150 ospitati tra Sapade e San Vidal-Tilimen, come altri comuni della regione mettono a disposizione queste strutture di accetto. Alle dispietà un flusso simplici più grande, l'ha commentato il presidente della regione Massimiliano Fedriga, e per questo signispiete di regole sanitarie sclari in ambito nazionale. Il tas di vaccini al Covid-19 in Ucraina è di fatto in basso, non lontano dal 35%. Il Comune di Pradaman, che al conto è poco più di 3.600 abitanti, ha individuato tante posti di metti a disposizione dai dispatriati ucraini, ma l'obiettifale arriva a cento in cura. Vot le persone arrivate in le ultime settimane, c'è anche un sconto, il sindico Enrico Mossenta. Anche il Comune di Pradaman si sta vivendo di operare per ogni donna, le inche, le popolazioni che arriva in Ucraina. Voi come voi ho vinto la disponibilità di circa 80 poesie per la popolazione, sia che sono in famiglia, sia che sono in un albergo, e quindi si stanno adoperando anche con le associazioni del territorio per costruire che re di solidarietà e di assistenza che si può dare a che inche stiamo per le guerre. Ovin voi è in questo momento di studiare quel che è il metodo di stare dentro nella nostra comunità, ovin di capire anche con le prefetture quali sono tutte le problematiche che riguardano le assistenze, sia sanitarie che tutte le vite di ogni giorno, per arrivare a far sì che le persone si possono creare un poesie dove sta bene e creare un momento di polsa dopo essere schiampati di situazioni di guerra, situazioni di morte che si vivono come un loro paese nativo. Tre tecniche di protezione civile regionale sono partite per Slovacchia, da che i volontari della nostra regione costruiranno un chiam rifugio di 250 poesie per ospitare i cittadini ucraini in fuori di devore. Quarante volontari, sintai dischi, avvigni, urlarandaur, par dopo la sei il chiam in gestione ai s'autorità slovacchis. La conferenza des Regions ha domandato una riunione straordinaria e urgente sul tema del cyber security, a presince dal Ministro per Innovazione Tecnologica e la Transizione Digital Vittorio Colau e dal Direttore delle Agenzie per Cyber Security Roberto Badaloni, vi ho dato la possibilità di ripercussioni per l'intervento europeo in cui intri la Russia. L'ho fatto avere l'assessore regionale ai sistemi informativi, Sebastiano Callari, che l'ha annunziato che è in curta e sarà inviato a una circolare a tutti gli amministrazioni pubbliche dal Friul, Vinesi e Iulia, con un decalic di comportamenti, ritignendo il pericolo di problemi e vulnerabilità al sedi alti. Aromai da Parduti il costo di benzina al passe i 2 euro al litri, quote sfondate anche dal diesel, ma l'aumento di presi più impressionante riguarda il gas metano che in qualche area di servizi ha la tocchiata i 4 euro al chilo. In cin mese il presi ha le quadruplicate, fin a settembre ha la iere di un euro, il primo tubare ha le dupleate di un di a che l'altri passano a 2 euro e vuoi ha l'arrivata a 4. L'aumento di presi dai carburanti ha le un salas per privati e aziendi. La differenza di presi ormai tra un distributore e che l'altri ha le minimi. Uniche possibilità per sparare alcuni. Ale, il fa da te. E le conseguenze di vuoi in Ucraina ha colpito anche il mondo e la cultura. La Russia ha detto no al sprolungamento del presi dei sopari esposti a chiese Cavazzini, di fatto impedendo di mantenere la mostra, la forma dall'infinito fino al primo di mai. c'è il mondo che deve domandare le zone comunali. Non sclarisce la situazione l'assessore Maurizio Franz. Abbiamo avuto 3.000 persone che le ultime settimane sono qui. Con le prenotazioni che abbiamo avuto per il fin di settimana sono arrivati a 40.000 visitatori, che è un risultato che ci dà una grande soddisfazione. Come naturalmente stiamo lavorando con i musei di Mosca, in particolare i nostri curatori, Don Geretti, stanno vedendo direttamente con le altre autorità loro per vedere che la cultura non viene toccata le guerre, che purtroppo sta devastando l'Europa. e quindi la possibilità che vengono prorogate ulteriormente queste mostre qua, perché nel mese di avril è un mese che può dare si permette di recuperare i turisti che prima non potevano venire a causa delle pandemie, quindi in particolare delle regioni vicine, che sono dal Veneto, da Lombardia, piuttosto che dall'Austria. e quindi non ho sperato che la cultura resti fuori, perché già la guerra è una cosa che non rivela ad essere una motivazione, ma soprattutto che toglie anche la cultura, sarebbe una cosa veramente grave. Quindi siamo fiduciosi che in qualche maniera si arriva a avere un prolungamento di un mese, l'ideale sarebbe arrivare fino al 3 di maio. A Vangiu Anuf, le persone con Covid ricoverate senza terapie intensive dal Friul, Vignesi e Iulia, in tanto i pazienti accettati in altri reparti, sono 162, sono 187 infezze chiatate, ultimi 24 ore in regione, a fronte di 3.225 tamponi fatti. Le vittime con Covid sono quattro, tra questi anche un mese di 59 anni di tisane morti in ospedale e un mese di 52 anni di chiesare morti in le proprie abitazioni. Le persone in isolamento sono 16.684. Plus di 22 milioni di euro di investimenti per il distretto sanitario dell'Ivence. A comunicarlo a Sonstaz, il Presidente Regional Massimiliano Fedriga e il Vice Presidente Riccardo Riccardi, dilunde illustrazioni dal programma di investimenti dal distretto, insieme al Direttore General di Aziende Sanitarie Friul Occidental, Josef Polimeni. Il plan ha previsto la realizzazione di una chiesa di comunità TAB, un ospedale di comunità e una centrale operativa e territoriale a Sacil, tre chiesi di comunità Spoca, Brugnere, Fontanefrede e Davian, di là dall'aumento del numero di queste jette e dal sviluppo di nuove tecnologie. Dopo 1 di spiette, il Palamostris di Udin torna a esso funzioni originari. In bande di teatro e piscini si torna appropriati spazi destinati a rassegni e associazioni. Sono scominciati i lavori di ristrutturazione dell'edificio che non bloccaranno però le attività teatrali e la fruibilità del sale. Su questo ascoltiamo il vice-sindic di Udin, Loris Michelini. Il Palazzo delle Manifestazioni, così che l'ha reclamato, il Palamostris, è oggetto di una riqualificazione strutturale completa. Sono partiti la voce, chi lo sa chi, l'arriamo davanti a quasi un anno e riguarderanno le coperture, lì che si tratta le aghe, quindi avrà fatta completamente le coperture nuove, tutti i planchi, l'elettrica di umidificazione, per mostri, per mani, ma anche che è attuale, che poi non si fatti. Ho pensato che facendo così, ho detto alle città, un altro posto, lì che si può sviluppare cultura, sport, perché anche la parte sportiva, e anche da un spazio ai giovani, che hanno bisogno di poter esprimersi in un edificio che vuole fare. Il ben staff psicofisic dai over 65 alle alcentri dei nuove trasmissioni di Telefriuli muoversi conoscendo, in onde i lunis e il miercus hai tre di sedis, organizzate polisportive lab, col finanziamento al Comune di Udin, l'appuntamento si sviluppa intune serie di lezioni pratiche, con esercizi semplici di fare a chiese, alternati ai consegni e ai approfondimenti dagli esperti. E anche paru sgnot, alle dut, si tornino a vio di domani, buone sere e mandi.